Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui con il nostro Monza su PS 2021 con la Master League Allora, mi avete aperto gli occhi su un fattore che non avevo considerato Se noi vogliamo vendere i giocatori, se vogliamo venderli, ci tocca fare le cose per bene E non aperto a offerte ragionevoli E' questo che io ho sbagliato, purtroppo E' questo che io ho sbagliato e me ne sono accorto in ritardo Poi, chi è che vendavamo? Fabregas Adesso devo ricordarmi chi stavano vendendo Questo qui, ok Romao Casulo Insomma McDowell Poi Per il resto Donk Kudela Ok Da Silva E anche, no Fruit no, perché tanto alla fine Ci può servire, ci può servire, come secondo portiere ci può servire Allora, io intanto andrei a fare la partita di oggi contro il Napoli 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 che potrebbe darci problemi Ehm, allora La squadra c'è Ci siamo tutti E possiamo andarci a giocare questa partita contro un Napoli Che comunque scarso non è Quindi vincere non sarà così semplice, secondo la mia opinione Poi speriamo bene che Napoli sia Sia un po' fuori forma In modo che possiamo vincere con tanta tranquillità Anche perché quest'anno Il campionato Lo voglio ammazzare prestissimo Se si può Mi voglio cavare il pensiero Fin da subito Senza star lì a lottare fino alla fine Che poi sappiamo già come va a finire Che ce lo fottono E non è una bella cosa Perché l'anno scorso ce l'hanno veramente fottuto Quello è fregato totalmente Veramente Cioè io ancora ho gli incubi da notte Su quel finale di stagione bruttissimo che abbiamo fatto Su quell'ultima partita più che altro Bruttissima Che tra l'altro stava meritando Alan Per Sanchez Alan che brutto Suo passaggio di Sanchez però Mamma mia che bruttezza rara Che bruttezza rara Tanto Kabak è già entrato nel mio cuore Come ve l'ho detto Kabak gran bel giocatore Gran bel innesto Ci porterà tante soddisfazioni secondo me Bravo Williams Qui è giallo però Se fermi il gioco è giallo Almeno Oh Ma come no Come fa ad essere fallo questo Scusate Con tutto il rispetto Qual era fallo? Da giallo tra l'altro Va bene Va bene Alan No La presa Beh che il tiro non era dei migliori Però cavolo Da due metri Speravo non la prendesse E invece la presa Mi ha sorpreso Mi ha sorpreso Mi ha sorpreso Kaba Katua Bravo Kaba Con calma Ripartiamo Gustavo Per Sigurdsson Bello Bravo Sigurdsson Complimenti per La reattività Mamma mia Addormentatissimo Williams Non farlo passà Bravo Williams Eder Per Alan Eh vabbè Alan però c'è Ti buttano tutti giù Ti butto giù anch'io se potessi essere nel gioco Ti butteri anch'io giù Ammazza Alan però Gustavo Per Alan Eh vabbè niente Non si riesce mica Non si riesce Niente neanche il fallo Magari è una congiura Bravo San No L'aveva quasi presa E' ancora lì Ammazza che tiro che ha fatto Milico Mi ha un po' impensierito eh Ci stanno un po' abbattendo Nel processo palla Un pochettino Sì Napoli Molto molto Propositivo Molto Palleggiante no Gioca bene sto Napoli eh Difende anche molto bene Finora Mi sta sorprendendo Mi sta sorprendendo Sigurdsson Per Mech No Eder se la fa parare Aveva angolata sperando in un Oh cavolo Sperando in un possibile gol E invece Neanche l'angolazione è bastata Bravo Mech Bravissimi Sigurdsson Sei svegliato Dopo un lungo Lungo sonno Quirz Eh però Alan doveva Va sempre avanti No sei in fuorigioco Ma Davo per scontato Che non fossi in fuorigioco Visto che ti sei fermato Davo per scontato Invece non dovevo Davo per scontato Non dovevo fidarmi io Perché mi fido Dai Bravo Mech Di tacco Sigurdsson Eh però Gustavo Gustavo un po' di Sveglia Mamma mia Ma però ragazzi No stiamo Non stiamo giocando bene Cioè abbiamo avuto le nostre Occasioni Le abbiamo avute però È troppo poco Per vincere sta partita Eder Eder Per Alan di testa Eh Il portiere Cioè anzi La palla andava fuori Poteva anche evitare Di buttarsi proprio Bravo Williams Per Kabak Bravo Sigurdsson Calma Però Alan Oh bravo Alan Però dai 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 Bellissimo Alan Che cosa ha fatto No vabbè ma Che cosa ha fatto ragazzi Ma ne vogliamo parlare Bravo anche Eder Bravo anche Eder Bellissimo sto cosa ragazzi Bellissimo Bellissimo Veramente Impressionante Bene 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 Mi piace Questo gol Mi piace Mi piace Bravo Williams Eh però se la ripassi A Williams mio È un problema se la ripassi No C'è Rick Garcia Per Sanchez Per Sigurdsson Ancora Sanchez Ancora Sigurdsson Per Alan No Vabbè Troppo lenta Sta palla Era angolata Aveva troppo lenta Primo tempo Andato Andato Due tiri a 6 Possesso palla Leggermente recuperato Stiamo giocando Benino Benino Dai Gustavo Oh è fallo No Come la parata Il portiere Ma come Dobbiamo parlare C'è robe Da folli Una parata In un modo Che è impossibile Secondo me Bravo Williams Per Sanchez Wirth Wirth Non è passato Non è passato Mannaggia Bravo Mac Dai Sigurdsson È fallo È fallo su Alan Ma Perché non fiscava nulla Bravo Kabak Il solito Kabak Sanchez Per Eder Di testa Eh ma Nessuno ci va Bravo Sanchez Anche se non volevi Bravo Sanchez Ottimo copri di palla Alan No No Bravo Alan Dai Wirth Beh però non c'è nessuno Non c'è nessuno Ancora Kabak di testa Bravi ragazzi Come giochiamo Come giochiamo Come giochiamo Come giochiamo Come giochiamo Come giochiamo 2 a 0 Monza Alan La spacca Doppietta Di Alan Incredibile Io Tutto di prima Ho avuto mal di testa Mai giocatori avversari Kulipali Va a giocare a bocce E bravo Alan 2 a 0 anche a Napoli Al momento Cosa abbiamo capito Da questo Inizio di stagione Al momento Che la difesa è molto solida La difesa è incredibilmente solida Ragazzi Abbiamo una difesa Strepitosa E un attacco Abbastanza buono Wirth Si però Wirth Ammannaggia è clero Wirth però Santo D Potevano chiudere Stapartita Ah è vero Non ho ancora fatto Quella cosa del calcio d'armo Mi dimentico ogni volta Io Kabak Alan E Eric Garcia Pochi specialisti Oggi in avanti Mech Dai Kabak Vai Vai su Vai a fa gol Kabak Mech Ci va Wirth Uh Il portiere para Comunque era uscita la palla Mi sa eh No raga Bravo Gustavo Kabak Mech Eder Niente Il portiere Si butta sempre E' bravo Sto portiere E' bravo Non è male Mech Sigurdsson Kabak Fallo Oh è fallo No no La voglio tirà La voglio tirà Che noi Noi siamo bravi Sulle punizioni Allora Mech Do O se Gia fa Mech Io lo sposo No La presi in faccia Mica Alan che apertura Del Manga Allora Facciamo dei cambi Pellecri Che voglio Farlo entrare in squadra Pellecri Sanchez Che voglio farlo un po' Riposare Nella prossima partita Dai Tanto sul 2-0 Quasi al settantesimo Dovrebbe essere Quasi Chiusa Quasi eh Andiamo per scontato Ma E' difficile Che mi Ricopriano Due gol In 20 minuti Una difesa Così Poi Quest'anno Sarà dura Per tutti Mi sa Oh è fallo Cazzarola È giallonetto È ritardo Di mezz'ora Sull'uomo Io non vorrei Di ma No Manco è giallo Cioè L'unica spiegazione È che l'abito Se ne si è dimenticati Oggi Gli gialli Perché Qua Ce n'erano due In sta partita Gli gialli Netti Prateali Nemmeno uno Non ha dato Eder È troppo lento Eder È troppo Ottimo Il fraseggio No Kabak Bravo Schubert Però Con quale reattività Oh raga Però Così no Così no Mech Niente Pellegri Perde un pallone Abbastanza facile Bravo Gustavo Cassata Per Williams Ancora Williams Che spinge Sulla fascia Non è fallo Quando mai Bravi ragazzi No Mech Ma che è sta roba Kabak Bravi Bravi Pietro Però Eder Vaci Bravo Eder Bravo Eder No La parata Ancora La parata Ancora Mannaggia Tutto Mannaggia Mech Per Per Doku Di testa Cosa Cosa ha fatto Questo di tacco Tra l'altro Non vorrei Di ma Ha fatto una mossa Stranissima Williams Williams No Attenzione A Napoli Nostra Nostra Ragazzi Nostra 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 Calma Calmissima Pietro Era questo Pietro Lo so Confuso No C'è Kabak C'è Kabak Bravissimo Erik Sigurdsson Eh però Sono ancora lì Teniamoci sto 2 a 0 Non mi piace 2 a 1 Non mi piace Non voglio 2 a 1 Non voglio 2 a 1 Vabbè Finita Abitro Niente Non può sbagare E' finita Abitro Pure il calcio d'angolo Di regali Ah va bene Va bene Il calcio d'angolo Per il Napoli Dobbiamo fare 2 a 1 Eh Mi sa di si Mi sa di si Eh Ah oh Fischia Mo però Ma fischia 94esimo No vabbè Io non ci credo Non ce la fanno a Fargo Smettila Oh De un falo per forza Ma Schubert Dai 95esimo Tira su sta palla E hanno scassato L'inscassabile 2 a 0 Grazie a un Alan Strepitoso Veramente strepitoso Ragazzi 5 tiri a 16 Presi Appallonate Adesso hanno giocato Una grande partita Ragazzi Una grande partita Siamo primi in classifica Con Torino Torino Atalanta Juventus E Inter Dai dai Teniamo sto Sta marcia Che secondo me Quest'anno è l'anno buono Se tutto va bene È l'anno buono Abbiamo qualche offerta? No Il rapporto mensile Io volevo un'offerta Ma Mi sa che qua Oh Sigurdsson Alan E McDowell Si Però Alan Anche no Dopo quello che ha fatto oggi Direi che È fuori discussione 96 milioni Non posso Sigurdsson Invece Sì però Amico mio Amico mio È un po' poco Però non lo usiamo Ragazzi Vabbè È che ha una clausola bassa Ha una clausola molto bassa Purtroppo lui Quindi tanto vale Venderlo così Poi C'era altro C'era altro No C'era Mac Mac Dispiace ma A me Mi dispiace ma Quest'anno Non troverai spazio Accettiamo Alla Sampdoria 124 milioni Niente mai Niente male Qualche offerta Budmer Quanto ci offrono Per il buon vecchio Budmer Eh vabbè 7 milioni Sì dai Va bene 142 milioni Abbiamo Minchia Quanti soldini Quanti soldini Allora Noi con 142 milioni Chi potremmo Prendere Chi stiamo Osservando Sto guardando Se c'è qualcuno Interessante Guardiamo un attimo Sul mercato Che c'è Lì Safferimenti Harry Kane Però Facciamo una cosa Allora Allora Vautazione Al massimo 80 Vediamo un po' Malen Però Non vorrei Andata accanto In attacco Sono a posto In attacco Sono a posto Al momento Eh Un De Bruyne 88 Non sarebbe male È in calo Però Però Anche se è in calo Comunque Cioè Comunque Un calo Un calo Bello Cioè Nel senso Minica Vinga Uno che mi faccia Gridare Al Al Meraviglioso Un Modric 18enne Lo vorriamo Un Verratti Da 3enne Invecchiato Da 3 anni Direi no Rice No Non mi ispira Tornare Locatelli Non so Non so Non sono Non sono Non mi arriva Quell'istinto No Del comprare Da un giocatore Però Che lì 18 anni Al Milan È di una bruttezza Paurosa Comunque Vabbè Aspettiamo un attimo Se no Svincolato Altro Cos'è altro Cos'è altro Ansufati Ansufati Potrebbe Però ci chiede un botto Di Di stipendio Me l'aspettavo Me l'aspettavo Vabbè ragazzi Direi che Il mercato Può andare avanti A sto punto Purtroppo Non Lo faremo a gennaio A gennaio Miglioreremo ancora La rosa Romao Cano Da silva Tutti adesso Cazza Rola Maledetti Cano Va benissimo Dopo rimango Con due trequartisti Che va stra bene Al momento E più che altro Dovremmo Guardare anche Per il Trequartista Eh perché Potrebbe essere Un ruolo Da poter migliorare Il trequartista Romao Accettiamo Tanto non gioca Ciao Romao E vabbè È chiusa La finestra del mercato Però posso ancora accettare Le offerte No Di base Anche se Anche se è finito Il mercato Non penso che sia un problema E invece Mi sa di sì Messa di sì Che succede Ah sì Perché c'è la Champions League Ora Vincerete facilmente Girone Sarà una lotta Su fiori lana Ma sì Dai Non so Nelmeno che giro Ne abbia Sinceramente Al momento Sidi Gu Eder 11 del mese Rapporto mensile Due nuovi giocatori Fallite Fallite Lo so Purtroppo Io volevo venderli Ma non ho avuto il tempo Eder Eder Mi offrono Però mi offrono 24 milioni Però Cioè Sinceramente 24 milioni Un po' poco Per Eder Ma l'avevo messo In lista io No Come terzo attaccante Me lo tengo Ragazzi Può fare anche L'esterno È molto comodo Eder Come giocatore Può fare un po' tutto Cosa mi hanno trovato Vlasic Trequartista 86 Dove roll Cazzarola Questo Vlasic Quanto mi chiedono Per Vlasic Purtroppo È lo stipendio Che mi frega È lo stipendio Non dico È provare a far così Però mi sa che Non accetterà mai Purtroppo Lo stipendio Mi frega un botto Ragazzi Lo stipendio Sì È troppo oneroso Poi mi ha trovato Questo Christian Maggio No Direi no Mi piacerebbe Ma Ma no Al momento Non sa da fare Ragazzi Direi che è tutto Per il momento Noi ci becchiamo In un prossimo episodio Dal prossimo episodio In cui rincominceremo A fare due partite A episodio Quindi Saranno un poco Più lunghi Di episodi Quindi È tutto per il momento E ci becchiamo Alla prossima Ciao ragazzi Alla prossima